Continuo a rivelare i dettagli importanti su numerosi fatti di sangue commessi nella Locride negli ultimi anni, il nuovo pentito di indrangheta Domenico Agresta. La gola profonda dei clan, stando a quanto emerso, avrebbe rilasciato dichiarazioni ritenute strategiche dal procuratore Antonio De Bernardo della DDA Regina. In uno interrogatorio risalente allo scorso gennaio, Agresta avrebbe infatti riferito dell'omicidio di Massimiliano Carbone avvenuto nel settembre del 2004 a Locride. Dopo circa 13 anni si apre così una nuova pista sulla morte del trentenne. Stando a quanto avrebbe riferito il collaboratore di giustizia, il giovane imprenditore fu ucciso perché aveva una relazione con una donna che interessava ai cordì. Dettagli importanti anche su un altro assassino, quello dell'oculista Fortunato Larosa. Domenico Agresta avrebbe riferito a De Bernardo in un altro interrogatorio che il medico aveva denunciato alcuni abusi subiti in relazione ad un terreno di sua proprietà. Uno sgarro mal digerito che avrebbe portato la controparte a rivolgersi proprio al clan Cordy. L'oculista venne così ucciso a fucilate da due persone forse di Canolo. Le dichiarazioni rese alla giustizia dal pentito Agresta potrebbero adesso portare ad una netta svolta due degli omicidi più cruenti negli ultimi anni della Locride.